Buongiorno! Questa azienda solita Viva! 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 La miseria Viva! Partiti! Non ti scassare che abbassi Scopo! Viva! 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 frena, non chiude i venti, ecco la prima salita all'amore, come vedete non sono l'ultimo, in dodici minuti 30 chilometri, dai puoi stare, domenica vuoi stare a letto? si è meglio quanto manca la discesa? un chilometro e mezzo non ci credi? un chilometro sembra poco però, invece in salita non è poco solo 500 metri, si adesso poi, e dopo? e finita, dopo siamo a casa, il medio? sicuro eh, neanche parca miseria un'altra salita, eh il tipo ci vuole eh, allora fai la lunga, no no no, la media tanto per fare un girata in bicicletta, la media è giovane, basta e avanza, tutto molto bene, lei? bene, buongiorno, come siamo? grazie, grazie grazie, mi sarebbe l'ora di mangiare qualcosa ah, mi ristoro c'è il barolo? barolo chinato ah va bene dai, siamo quasi a metà però, mi stanchino, oggi non è domenica a sinistra, al medio, meno male, se no se sbagliamo è finita eh? porca vacca, adesso comincia la salita, non ci voleva più buono adesso qua siamo tutti meno baldanzosi tanto ne ho messe le salite, non sono dure ma, vai vai andiamo bene bisogna arrivare su in cima sogno, ecco il ristoro, non so se ci arrivo però, addio è stata dura, due notizie, una così così, e una bruttissima, meno male che c'è l'ambulanza lì andiamo dritti non so che mai dare il massimo qua, mica ho dato tutto, di più ho dato è buono tipo la via crucis, solo che non ci sono le stazioni e non ci si ferma sono uguale, qui non vediamo la Badonna, vediamo Sant'Antonio no, cambia niente come, ancora due? due pezzettini porca, meno ancora due siamo arrivati, si è arrivato 100, 100 oh oh oh, le salite sono finite sarà vero? ci credo, ci credo ci credo Oh Dio, 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 non mangiare a faccio pietà. Tom, mangiò anche la Nutella. Non mangiare a faccio pietà. Vabbè, non è finta. Faremo un altro giro adesso, tanto come lo do io. 5 giri posso fare. Grazie a tutti. Grazie a tutti.